Un caro saluto a tutti, questa è l'occasione che Lampi Martirini Guardesi ha voluto creare per presentare un libro, un bel libro, il romanzo di Amalia Frontali intitolato Maria nata per la libertà. Il libro parla della vicenda di Maria Perón, una figura, possiamo sprecare benissimo questo termine, leggendaria della resistenza che è legata per vari motivi che poi pian piano scoprirete sia al quartiere milanese di Niguarda, che è quello dove opera la nostra sezione e anche ai territori della Val Grande, in Piemonte, che sono quelli dove Maria Perón ha combattuto, ha combattuto anche se non ha mai sparato un colpo, ha combattuto in una maniera tutta particolare, con un coraggio molto grande. Maria Perón era un'infermiera e ha saputo col suo coraggio, con la sua determinazione, con la sua forza incredibile di donna, dare un contributo grandissimo alla formazione partigiana e alle formazioni partigiane presso cui ha militato. Allora, il romanzo è un romanzo che lascia veramente con l'amaro in bocca quando finisce, il che vuol dire che è un bel romanzo e un bel racconto. Ma cominciamo adesso con una lettura, ne faremo alcune durante questa presentazione e quindi lascio la parola a Marta che ci leggerà un brano e poi riprendiamo. Buonasera a tutti, sono Marta Marangoni, sono un'attrice del Teatro della Cooperativa, ringrazio per l'invito e per l'opportunità di poter dare voce appunto a questa figura leggendaria, tra l'altro descritta da un'autrice e diciamo che per me il femminile è sempre molto importante anche in tutti i miei percorsi che ho fatto nella rappresentazione appunto delle partigiane e delle voci femminili della resistenza che non sono mai, sono sicuramente state in questo momento rivalutate, le vediamo finalmente nei libri di scuola ma mai abbastanza quindi con grande piacere che comincio dal primo capitolo. Hai fatto bene, non guardare giù, comandò a se stessa, non voleva farlo e non lo fece, si forzò invece a mettere un piede davanti all'altro lentamente lungo il bordo troppo sottile del cornicione, ma le disse quella corporatura robusta, i polpacci larghi e le cosce forti da contadina che aveva preso da sua madre, fosse stata sottile come Mimì o piccolina e minuta come Lamodoni sarebbe stato tutto più facile e se uno di quelli si fosse affacciato e l'avesse vista incrodata come una grassa capra maldestra sulla facciata del patiglione Ponti, non pensarci Maria, non pensarci, vai avanti, iniziò a sgranare mentalmente il rosario, la ripetizione aiutava, la preghiera portava pace e chiarezza, anche sotto la pioggia che le ghiacciava la divisa incollandola alla schiena, anche con i fascisti alle calcagna, anche a quattro metri da terra, mancava poco all'angolo dell'edificio e doveva superarlo se voleva almeno uscirne fuori vista, ma era un'impresa troppo al di sopra delle sue possibilità atletiche, sarebbe caduta giù e si sarebbe rotta la testa, si era sfortunata la schiena, qualcuno alla sua sinistra, un bel po' a sinistra, so chiuse l'anta di una finestra, potente a vedere solo una manica azzurra e una treccia bionda sotto la crestina della divisa, non avrebbe mai saputo chi ringraziare, lì poteva arrivarci, si calò oltre le pesanti tende nella stanza buia, tirando il fiato, era il deposito farmaci, all'angolo del reparto, con la sua ordinata teoria di armadietti a vetri chiusi a chiave, avanzò a tentoni nel buio, cercando di non far rumore, ma se anche l'avesse fatto, fuori nella corsia c'era ben più baccano, accostandosi alla soglia si sentiva vociare forte, grida femminili e ordini abbagliati, calpestio di piedi, una porta che sbatteva, avevano fallito stavolta, avevano fallito e non sarebbe stato senza conseguenze, nella stanza dove si trovava saliva un vetusto montacarichi delle lavanderie, poteva infilarcisi, sempre che fosse stata, fosse riuscita a starci dentro, a manovrarlo con un paio di forbicine, come si faceva sempre quando si incastrava, per scendere dritta dritta al piano interrato e scappare via, scappare a gambe levate senza guardarsi indietro, poteva farlo, era giusto? Si chiese cosa avrebbero fatto i fascisti a un pugno di infermiere beccati a cercare di fare evadere un prigioniero politico, l'ennesimo visto che erano mesi da quando l'infermeria di San Vittore era stata bombardata e i detenuti trasferiti all'ospedale civile, erano mesi che in corsia si giocava ad azzardo, abiti dalla sala mortuaria, false diagnosi, terapie posticce, fughe notturne verso afori sulla bicicletta del buon Naci, e se fosse stata anche lei là dentro, insieme alle altre, in corsia, mani in alto contro il muro, cosa avrebbe pensato di una compagna che fuggiva di soppiatto? Oltre alle ossa massicce, sua madre le aveva trasmesso un'anima nobile e un intelletto lucido, così decise che, fosse stata sotto la punta dei mitra, avrebbe invidiato chi poteva salvarsi ma senza biasimo, perché non c'era alcuna utilità, solo un coraggio vano a farsi ammazzare senza raggiungere uno scopo, e se Dio le aveva lasciata aperta quella finestra, voleva dire che non era la sua ora e che aveva ancora dei progetti per lei. Prese un respiro e si infilò a fatica nello stretto vano del montacarichi, ignorò la voce della Rossi che strillava un altissimo, no, e ignorò un lamento acuto che poteva essere la signorina abberetta, la telefonista, ignorò i passi di stivali che risuonavano ritmati accanto all'uscio e, ignorò, lo sparo. La pioggia era diminuita, era fatta sottile, polverosa e battente, avvolgeva le vie di Milano come un velo da lutto. A quell'ora, di certo i questurini avevano già visto il foglio dei turni e notato la sua mancanza all'appello in corsia. La caccia per lei era già aperta e le uscite tutte bloccate. Raggiunge subito la chiesa e da lì Don Alessandro, che non ebbe bisogno di spiegazioni, la accompagnò fino al convitto, passando da una porticina laterale nei sotterranei, le strinse forte la spalla, mentre le parole di commiato gli si rompevano in gola, banali e inadeguate. Era ovvio che tornare nella sua stanza non fosse una mossa molto astuta, eppure doveva, doveva proprio, che ancor meno astuto sarebbe stato farsi acchiappare per strada con le tasche della divisa piene di bombe e spolete da mitragliatrice sottratte ai piantoni fascisti del Ponti. Suor Giovanna, che per fortuna non era di turno in corsia quel mattino, venne ad accoglierla con uno sguardo accigliato e teso, ma non volle formulare una domanda precisa. Maria rovesciò in un cassetto la sua refurtiva e poi strinse ambo le mani dell'amica e consigliera nelle sue, con calore e urgenza, Suor Giovanna, è la mia volta, la religiosa è la trentina, una tipa di molti fatti e poche parole, e in quell'occasione non ritenne opportuno usarne alcuna. Si limitò a tracciare, con le sue movenze lente e accorte, una piccola croce sulla fronte di Maria e poi a baciare quella stessa fronte. Si strinse ancora la sua favorita e la lasciò andare. Maria ebbe giusto il tempo di prendere il cappello, due paia di calze di lana spessa da cacciare nelle tasche del paltoe, nell'altro prima di scavalcare il muro di cinta sul retro del convitto e fuggire per i campi, verso Niguarda. Esatto, Niguarda. Grazie Marta. Niguarda è il quartiere adiacente chiaramente all'ospedale ed è il crogiuolo da cui è nato un po' tutto. Prima di dare la parola e parlare con Amalian, dobbiamo spiegare a chi ci ascolta che cosa succedeva durante quegli anni in questa zona. Chiaramente noi come sezione Martireini Guardesi abbiamo fatto degli studi, stiamo raccogliendo tuttora testimonianze, documenti, e abbiamo ricostruito un quadro, un quadro che può rappresentare un'azione corale, diciamo così, che fra quartiere e ospedale, in perfetta collaborazione fra queste due realtà, fra i resistenti di queste due realtà, permetteva di far fuggire decine e decine di detenuti barra ammalati, barra veri o finti, chiaramente perché certi li facevano ammalare apposta per poterli ricoverare e per poi farli scappare. Allora adesso io darei la parola a Riccardo, a Riccardo De Gregorio, che ci dipingerà un attimino questo quadro, questo fresco, e poi entreremo nel vivo della presentazione. A te Riccardo. Buongiorno a tutti, sono Riccardo De Gregorio, e come accennava appunto Daniele, noi come ampi mini riguarda siamo ovviamente molto legati alle vicende avvenute tra il 1943 e il 1945, all'ospedale di Miguarda, quindi ovviamente anche la figura di Maria Perón. Ricordo tra le altre cose che proprio nel nostro quartiere c'è un giardino, un giardino dedicato a Maria Perón e a Suor Giovanna Mostra, che è stata citata nella lettura di poco fa. Suor Giovanna Mostra era la caposara del padiglione Ponti dell'ospedale, dove erano appunto ricoverati i partigiani, i detenuti politici, che erano stati trasferiti lì dall'infermeria del carcere di San Vittore, bombardata nel 1943, quindi non più agibile. Tra l'altro sono due figure, Maria Perón e il Suor Giovanna Mostra, citate anche dal nostro sindaco Giuseppe Sala, quest'anno in occasione del 25 aprile. E noi appunto, come diceva Daniele, stiamo conducendo una ricerca storica su tutte queste vicende. Siamo partiti dalle poche testimonianze, diciamo, che avevamo in sezione, che erano state raccolte negli anni precedenti. Più che altro si tratta di racconti, racconti in particolare, racconti poi trascritti da un'altra importante infermiera dell'ospedale, Le Diamminghini, e racconti di qualche fuggitivo che ha narrato appunto come è riuscito a scappare dall'ospedale. Ce ne sono di testimonianze molto importanti, testimonianze appunto importantissime, però purtroppo talvolta un po' anche imprecise, soprattutto anche magari nella citazione dei nomi, nella lettura ne abbiamo sentiti alcuni di nomi, parlare di infermieri, infermieri, eccetera, però magari citati in maniera un po' imprecisa. E quindi noi stiamo conducendo questo studio che ci ha portato un po' a girovagare tra tanti importanti archivi. Uno studio molto importante secondo noi perché è una vicenda veramente collettiva, collettiva e di popolo, perché troviamo coinvolti appunto infermiere, infermieri, medici, suore e preti all'interno dell'ospedale e poi all'esterno dell'ospedale nel nostro quartiere famiglie e i preti della parrocchia. Quindi tutta un'organizzazione molto efficiente e complessa che svolgeva un'attività assai pericolosa. Non a caso Maria Peron è stata poi costretta a fuggire appunto come si legge in questo libro. La ricerca ci sta portando a consultare documenti presso archivi importanti dalle scuole dell'infermiere e dell'ospedale di Niguarda, il Policlinico di Milano, l'Ordine dei Medici, ne ricordo alcuni, la Congregazione delle Suore di Carità, l'Istituto di Storia dell'Età Contemporanea di Sesto San Giovanni, la Cediosi Cisì di Milano e altri. Documenti che noi si aggiungono a ulteriori testimonianze che siamo riusciti a raccogliere, penso anche altre sezioni ampi, qualche tesi di Laura in modo da poi avere un quadro molto completo su tutte queste vicende. Direi che potrei concludere così, lasciare adesso la parola ad Amalia per raccontarci del suo libro. Benissimo, grazie, grazie Riccardo. Allora finalmente veniamo ad Amalia Frontali che poi è la vera figura centrale di questo incontro. Noi abbiamo forse, ci siamo dilungati un po' per presentare un po' questa ricerca, ma veniamo subito a bomba e ci piacerebbe colloquiare con Amalia su tante cose, ma all'inizio la domanda è chiaramente la più semplice, se vogliamo, e anche la più banale. perché Amalia risiede in Emilia Romagna e è una giovane donna e si è accorta a un certo punto della vicenda di Maria Peron. Quindi la domanda è questa qui, come sei venuta a conoscenza di questa vicenda e soprattutto perché hai deciso di dedicare un libro a Maria Peron. A te Amalia. Ciao, sono Amalia. Grazie mille anzitutto di questa bellissima opportunità, di questa chiacchierata. È sempre anche bellissimo sentir leggere le pagine del libro da chi è bravo, da chi ha la capacità di renderlo, una cosa stupenda. Dunque, perché e come sono incappata in Maria Peron? È stata un po', diciamo, la sorte vorrei dire, nel senso che l'incontro con la figura di Maria Peron è stato casuale. Stavo navigando su internet un 25 aprile di ormai qualche anno fa e io sono sempre stata interessata al mondo resistenziale, non avevo mai approfondito in modo specifico, esplicito e comunque mi sono imbattuta in questa figura. È bastato il pochissimo che ho trovato su internet. Allora non c'era nemmeno la pagina di Wikipedia, era davvero una figura un po' sommersa e mi ha affascinato tantissimo. Mi hanno affascinato due cose. La prima, l'idea di una donna ordinaria, veramente una donna ordinaria, non tanto giovane, non tanto bella, brava nel suo lavoro professionale, ma anche lì fino a quel momento non aveva riscosso chissà quali enormi successi che si trova improvvisamente scagliata in una realtà completamente diversa che è quella della guerra attiva, del combattimento in prima linea e scopre di essere straordinaria, altro che ordinaria. E questa scoperta va di pari passo con una consapevolezza di sé molto particolare perché Maria Peron, che era una persona diciamo tradizionalista con questa profonda fede cattolica, con una storia alle spalle tutto sommato molto protetta, era stata in collegio, da lì era andata direttamente alla scuola infermiere, dalla scuola infermiere direttamente al convitto delle suore, quindi diciamo una vita personale molto protetta che si trova all'improvviso a dover fare conti con tutta una serie di zone di grigio, di sfumature che non aveva mai preso in considerazione perché aveva sempre visto il mondo un po' bianco, un po' nero. Questo mi ha affascinato moltissimo, ho trovato che fosse un personaggio straordinario e poi penso che ci sia bisogno di parlare di resistenza nei romanzi perché ci sono tanti saggi che sono interessanti, bellissimi e è stato veramente bello e anche divertente fare la ricerca storica per questo romanzo, però credo che il romanzo come forma letteraria abbia, come forma narrativa, abbia la possibilità di far arrivare delle storie e delle idee a tante persone che non hanno già un interesse così spiccato da andarsi a comprare un saggio perché comprare un saggio è una cosa orientata, cioè voglio approfondire un argomento e mi compro un saggio. Con un romanzo può essere più soft questo approccio, quindi penso che, ho sempre pensato che la resistenza abbia bisogno di romanzi. Le figure femminili va da sé, lo diceva prima Marta, sono rimaste molto in ombra anche nella resistenza pur essendo state tante e avendo tanto combattuto, tanto lottato esattamente al pari degli uomini, per diverso tempo sono rimaste in ombra anche per essere protette perché è finita la guerra queste donne che erano state in mezzo agli uomini tanto tempo, non erano parenti, chissà, ci sono tante testimonianze anche in questo senso e quindi c'è stata anche una protezione loro quando tutto è finito che però con il tempo è un po' degenerata in un oblio anche più grande di quello dedicato agli uomini. Basta contare le medaglie, le donne hanno avuto molte meno medaglie degli uomini, erano sicuramente di meno, però il loro ruolo è stato molto attivo quindi mi piace l'idea di recuperare, di aver recuperato la storia per me straordinaria di una figura femminile così interessante poi. Benissimo, senti, una delle cose che colpisce leggendo il libro è la precisione e proprio meticolosa sia nel descrivere i luoghi sia nel descrivere altri aspetti, ti faccio degli esempi, non so, un partigiano viene ferito dal fuoco dei fascisti ed è stato colpito e lì usi proprio un termine che io non so neanche ripetere magari di un muscolo di una cosa oppure ci sono delle 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 terminologie militari molto 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 precise anche queste e siccome immaginiamo e mi immagino che tu non sia un'esperta di cose militari o di cose mediche di questo tipo questo che cosa ci dice? Ci dice di un grandissimo lavoro da parte tua per rendere credibile la storia ma anche attraverso dei particolari che che rendono proprio viva l'immagine quindi ci parli un po' di questo lavoro tuo su questo tipo di problemi? È stata la parte più divertente senza alcun dubbio sono diventata un utente di forum di militaria dove tra l'altro spesso ero l'unica donna quindi tenuta in palmo di mano da tutti e mi sono fatta una cultura mi sono fatta una cultura sulle armi sui proiettili su diciamo il poplite che è la parte retro del ginocchio dove è stato colpito il povero era un po' scelto in realtà però sì mi piacciono molti dettagli penso che una storia diventi in qualche modo viva diventi in qualche modo immersiva quando ci si ritrova anche nei dettagli ora tendo ad eccedere nel senso che mi piacciono tanto quindi probabilmente ne interisco fin troppi però è una parte della ricerca che trovo personalmente soddisfacente perché a un certo punto quando inizi a conoscere i personaggi queste persone veramente mi sembra di conoscerle è molto triste in effetti l'idea di essere arrivata così tardi a questo libro e a questa storia perché mi sarebbe tanto piaciuto conoscere alcuni di loro dopo che tu ti trovi veramente così a contatto con le persone con la loro storia con le loro cose ti viene veramente la curiosità dei dettagli di sapere ma allora come era fatto sto stand come funzionava che aspetto aveva che proiettili montava e da lì di tutto come erano fatte le medaglie leggere diari per capire come funzionava la gestione delle armi perché tante volte sappiamo che le armi venivano prese si usavano i proiettili che c'erano in canna poi venivano sotterrate dove capitava perché se non c'erano proiettili del calibro giusto poteva essere un'automatica bellissima ma non si usava più il proiettile era molto più importante dell'arma per i partigiani questo è insomma è cosa nota penso penso che le storie diventino vive nei dettagli e quindi sì ci ha dedicato dell'attenzione mi sono divertita un sacco dunque io adesso ti dirò delle cose Amalia e poi volevo sentire cosa ne pensi tu allora nella scheda chiamiamola così professionale della scuola infermiere dell'ospedale di Niguarda ci sono chiaramente i giudizi su queste alunne su queste donne che stanno su queste giovani donne che stanno studiando appunto per diventare infermiere e via e noi spulciando le schede chiaramente abbiamo trovato quella di Maria Peron e così un po' a bruciapelo ti leggo queste cose qui queste erano cose che erano state redate sul registro diciamo così da da un insegnante che stava valutando Maria e noi non sappiamo chi fosse ma possiamo immaginarci con ogni probabilità una suora responsabile del corso qua di Uvata credo è probabile da un medico dunque qualità professionali buona premurosa educata silenziosa docile cara condotta esemplare intelligenza normale ordine ottimo temperamento il primo quadrimestre geniale il secondo permaloso buona volontà due punti tanta comportamento coi malati materno deficienze lenta nel lavoro resistenza fisica poca allora prima di prima di darti la parola su questa per farti commentare questa cosa io azzardo solamente due cosine allora l'intelligenza normale parliamo di una Maria Peron che ha costruito in montagna un vero e proprio piccolo ospedale tra l'altro un ospedale semovente un ospedale che poteva apparire scomparire a seconda dell'arrivo dei tedeschi dei fascisti eccetera e riapparire quando era utile così come scomparivano riapparivano i malati i feriti e cose di questo genere poi sulla buona volontà tanta questo siamo tutti d'accordo sulla resistenza fisica poca ci dirai tu perché racconti dei momenti bellissimi ecco che cosa fra tutte queste qualità che sono state evidenziate qui ritrovi che cosa probabilmente ha acquisito Maria Peron stando in montagna e che cosa invece si portava dentro già da prima che bella domanda resistenza fisica poca beh la Maria che arriva in montagna resistenza fisica ne ha poca infatti nessuno quasi ci vuol credere che lei sia scappata dalle finestre dell'ospedale no sembra che sembra quasi incredibile e la resistenza fisica Maria se la fa se la fa in montagna e se la deve fare perché perché comunque gli eventi corrono molto più veloci di lei e e quindi dopo poco tempo si accorge che in qualche modo quelle che sono le sue convinzioni di poter fare le cose con calma di potersi disinteressare agli aspetti più crudi della guerra insomma si rende subito conto che che deve cambiare e un po' gioco forza per quello che succede un po' perché lei è fatta come è fatta e quindi una persona con una volontà e una determinazione feroci feroci ovviamente l'aiutano anche in questo senso la Maria Peron un anno dopo non ha la resistenza ha una quantità di resistenza fisica rispetto a quella che era arrivata in montagna incalcolabile farà delle camminate di chilometri tra l'altro durante il rastrellamento le colonne con i feriti le barelle gli zaini carichi di materiale sanitario faranno la stessa strada di tutti e quindi passeranno le bocchette della Val Grande io non so se la Val Grande è uno dei pochi territori in Italia ancora molto selvaggio la Val Grande è veramente in fida bellissima ma in fida i burroni si aprono in un attimo i boschi cambiano pendenza nel giro di una curva quindi non è un territorio dove si possa fare dove si possano fare passeggiate di salute al ritmo tranquillo ecco quindi chiaramente quello è un aspetto in cui Maria cambierà che cosa lei si portava dietro? beh il temperamento materno lo vedo molto Maria si guadagna l'affetto oltre che la gratitudine dei suoi partigiani quindi dei suoi pazienti anche per questo atteggiamento che è veramente materno quindi come fanno le mamme sono tenere ma anche no quando serve di non esserlo e Maria è proprio così infermiera dentro cioè l'infermiera per Maria è una vocazione l'intelligenza ma gli insegnanti non sono mai stati bravissimi a giudicare l'intelligenza degli allievi tante volte si fanno fuorviare dal fatto che magari le persone più timide o meno appariscenti sembrano meno intelligenti di altri che si mettono più in evidenza sicuramente però più ancora dell'intelligenza che è ovvia perché alcune delle trovate di Maria Peron sono davvero prova di una persona molto brillante non solo intelligente però al di là dell'intelligenza credo che l'ordine e la buona volontà siano state veramente le doti vincenti perché organizzare un presidio sanitario in tempo di guerra in montagna ha richiesto prima di tutto la compilazione di un registro maniacale di cui ci sono ancora io ho visto diverse foto la compilazione di un registro maniacale la capacità di tessere una rete di staffette che fanno avanti e indietro con le provette degli esami cioè Maria Peron è riuscita a far fare in montagna le analisi per la sifilide cioè le analisi per i gruppi sanguigni per poter fare le trasfusioni cose che ovviamente non erano fattibili in mezzo ai monti e non erano fattibili nemmeno a Intra bisognava comunque arrivare a Milano dove lei aveva i suoi contatti che voi sapete meglio di me e che le restituivano queste informazioni quindi una grandissima capacità logistica cioè Maria era in altri tempi in un momento in cui alle donne fosse stato dato un po' di spazio e probabilmente con una situazione diversa sarebbe stata chiaramente una persona destinata a organizzare a supervisionare perché sono delle doti che non si imparano ovviamente la pressione del momento fa molto cioè la necessità guzza l'ingegno in questo caso al massimo grado e come dire sulla sua esemplarità di comportamento anche qui io non ho dubbi Maria parte la cosa che caratterizza Maria è una bussola morale veramente infallibile cioè lei anche nei momenti peggiori è una persona che si fa le domande giuste non sempre si dà le risposte ma non esita mai non lascia mai correre è veramente una persona determinata senza eroismi inutili perché qui non stiamo parlando di insomma di una trincea o di una prima linea parliamo di una persona che ha fatto tutto quello che poteva e ha scoperto che tutto quello che poteva era molto oltre quello che uno si poteva aspettare quindi mi dispiace gli insegnanti potevano fare meglio concordo pienamente con te e di nuovo il momento di Marta Marangon che adesso ci leggerà un secondo brano del tuo libro hai fatto la rima con Peron grazie si vede che mi sono abbastanza immedesimata beh le mie origine sono comunque venete perché i Marangon erano gli operai che costruirono l'arsenale quindi ho degli antenati che magari si sono incrociati anche con quelli della Peron sicuramente sul discorso dell'intelligenza sappiamo che l'intelligenza è poi relativa anche a una qualcosa una capacità l'intelligenza emotiva ci sono tanti tipi di intelligenze quindi talvolta come diceva Amalia gli insegnanti giudicano magari sulla base della nozionistica spesso e quindi forse quel giudizio era dovuto a questo mi è venuta questa riflessione invece per quel che riguarda il discorso del dettaglio ecco è veramente formidabile e insomma generoso da parte di un'autrice essere così entrare così tanto nella vicenda e anche nei dettagli diciamo più tecnici Amalia parlava appunto dei proiettili e questi dettagli nella lettura quindi nell'interpretazione aiutano tantissimo perché danno quella concretezza che per cui poi si riesce a incarnare il personaggio anche se in questo caso non sto incarnando la partigiana direttamente ma sto appunto leggendola in quanto narratrice ma spero di presto arrivare a interpretare anche uno dei miei sogni di interpretare veramente Maria Peroni leggo il capitolo 5 una lettura più breve di prima i leoni della montagna quasi quattro settimane trascorsero così scivolando via come sabbia fra le dita anche se ogni granello preso in sé era un istante lunghissimo eterno discreto Maria si rese conto di una grande verità che la vita ha un ritmo e un sapore completamente diversi quando è messa a rischio ogni momento qualcosa del genere gliel'aveva fatto notare Rizzato durante i giorni di ricovero aveva con sé un libro inglese che Maria conosceva solo di nome e che nella sua testa era associato all'infanzia Alice nel paese delle meraviglie Rizzato che prima di entrare nell'esercito studiava ingegneria ne era entusiasta e sosteneva che in quelle pagine ci fosse molto di più che una storia di fantasia era un trattato di matematica di filosofia e chissà cos'altro non che avesse avuto il coraggio di dirglielo ma quel che aveva letto a voce alta a lei era sembrato un po' noioso molto infantile però una parte l'aveva colpita Alice a un certo punto chiedeva per quanto tempo è per sempre e il coniglio parlante rispondeva a volte solo un secondo ecco così si sentiva il tempo o più esattamente la sua percezione veniva sollecitato in modo opposto da due diverse istanze da una parte la fatica sforzo fisico fame freddo carenza di sonno lo comprimeva dall'altra il pericolo lo dilatava non era possibile decidere se passasse in fretta o meno ma di certo ogni istante era vissuto con incredibile acuità emotiva e sensoriale perché tutti i sensi partecipavano a quello stato di continua spossante sospensione fra la paura e l'euforia le montagne erano più maestose il lago più splendente i tramonti più infuocati la frutta più dolce l'erba più tenera la luce più calda la notte più scura ognuno covava nel suo intimo il pensiero impronunciabile che quella primavera quel giorno quel respiro potevano essere gli ultimi e curiosamente non era un pensiero macabro e spaventoso o perlomeno non soltanto era anche ardente corrusco eccitante rendeva preziosa la vita e così tanto preziosa e intensa non lo sarebbe stata mai più neppure per quelli di loro cui toccavano in sorte ancora molti giorni sereni da vivere non lo sapevano allora di stare toccando l'apice della pienezza che la pienezza è di rado felice e quasi mai serena grazie Marta allora torniamo da Amalia una delle caratteristiche del personaggio Maria Peron è questa sua profonda credenza in Dio e di una specie di conflitto che che lei ha sempre perché si trova in mezzo a spari uccisioni e tutte le volte si chiede quello che ho visto quello che abbiamo fatto quello che è stato fatto è giusto non è giusto quindi a te chiederei Amalia di spendere delle parole su questo aspetto della Maria Peron ecco questo aspetto l'ho molto considerato in effetti nel libro ricorre più volte perché perché la domanda se i partigiani sono stati banditi o liberatori d'Italia è una domanda importante è stata fatta tante volte poi si sa la storia è soggetta a tanti revisionismi ma in generale credo che una persona che non aveva mai pensato prima di mettersi in prima linea anche se non spara a un certo punto Maria si rende anche conto che il fatto che non spara lei significa che sta sparando qualcun altro cioè è bellissima l'idea di essere la persona che salva e non la persona che uccide ed è una un'idea con cui lei parte e alla quale tiene fede fino all'ultimo giorno della sua permanenza in montagna ma a un certo punto una persona intelligente abbiamo capito che Maria Peron è intelligente una persona intelligente a un certo punto si chiede cioè si rende conto che il fatto che non stai sparando tu significa che per te sta sparando qualcun altro e quindi le tue mani sono pulite o non sono pulite non è così facile non è che perché tu non spari allora la tua coscienza è bianca e questo percorso per una persona credente che aveva fino a quel momento pensato che il bene fosse bene il male fosse male fosse facile capire cosa era bene e cosa era male anche quando era poi difficile attuarlo si trova in questa secondo me si trova in questa zona grigia e quindi le domande le domande se le fa se le fa le fa io faccio in modo che ne discuta con diversi con diversi personaggi poi alcuni dialoghi naturalmente sono il frutto dell'aver romanzato la vicenda ovviamente ho cercato di seguire in modo abbastanza puntuale quella che è la cronologia dei fatti però ci sono tanti dialoghi tanti momenti che sono stati introdotti come parte romanzista e la risposta arriva arriva in tanti momenti e la risposta è il perché fai le cose naturalmente per quanto ci possano essere dei singoli elementi o delle singole situazioni che uno non può non può in coscienza giudicare in modo positivo rimane il motivo per cui sei lì a imbracciare un fucile e quello cambia tutto e in effetti Maria Peron con tutta la sua fede con tutti i suoi dubbi rimane fino alla fine profondamente sinceramente convinta e anche dopo in tutte le sue testimonianze successive lei mai metterà in dubbio i motivi gli scopi per cui era lì si può mettere in dubbio tanto si possono mettere in dubbio tanti singoli eventi ma non si possono mettere in dubbio i motivi per cui era lì a sparare a qualcuno o a fare la guerra credo che portare in un libro questo tipo di interrogativo questo tipo di riflessione renda anche un po' un po' meno superficiale l'esprimere poi chiaramente un'idea che è la mia e cioè quella che la resistenza sia stato un fenomeno straordinario e straordinariamente importante e per quanto mi guarda anche straordinariamente positivo ma questo straordinariamente positivo non deve essere il frutto della banalità noi siamo i buoni loro sono i cattivi ma dovrebbe essere il frutto di una riflessione e io credo che una persona intelligente di fede e sensata perché poi Maria è una persona molto pragmatica come Maria Peron non possa essere stata aliena continuamente da questi interrogativi ed ecco perché sono lì grazie Amalia tu dicevi a un certo momento c'è qualcuno che spara per te e a me viene in mente una scena del libro ho detto scena non a caso perché non si tratta di un film ma è un momento molto particolare di una forte tensione emotiva quando lei cioè la nostra protagonista e Laurenti il partigiano che poi diventerà in futuro suo marito si trovano ad essere sorpresi da da un paio di esponenti fascisti che sbucano troppo all'improvviso e loro devono appunto improvvisare un tipo di risposta Laurenti che è una persona che faceva funzionare molto bene il cervello dice subito velocemente a Maria noi due siamo fidanzati e la braccia e insieme diciamo così si fanno sorprendere in un atteggiamento amoroso di fidanzati appunto da questa piccola pattuglia tedesca composta ricordo ancora bene da due elementi è importante perché se fossero stati trenta allora io vorrei che questa questa questo questo brano lo raccontassi tu ma la domanda è è una cosa che è avvenuta davvero nella realtà o l'hai introdotto tu con un gusto western tutto particolare da romanziera rifinita ammetto il gusto western di vero c'è di vero c'è che Laurenti Gioffari di perse le falangi diciamo in una sparatoria in cui stava effettivamente proteggendo Maria Peron questo è l'elemento diciamo di realtà non è vero cioè non è non è andata storicamente come l'ho raccontata io proprio l'episodio sì l'ho introdotto io perché perché vabbè un po' narrativamente ci voleva una scena d'azione lì perché comunque era finito l'astrellamento quindi si era un po' adagiato il ritmo del romanzo bisognava farlo ripartire un po' mi piaceva molto raccontare appunto questo questo momento in cui comunque Laurenti si spende per difendere Maria e rimane rimane comunque una traccia per Maria questo è quel momento di cui parlavo prima in cui ci si rende conto che se tu non spari qualcuno spara per te e in questo caso in qualche modo il segno di quella sparatoria rimarrà per sempre perché le falangi perdute per la situazione particolare è impossibile riattaccarle in quel momento e quindi sì c'è questa scena in cui ci sono anche altri elementi veri e cioè il fatto che su Maria però non ci fosse una taglia questo è un altro elemento di realtà e quindi che comunque lei in quanto elemento perno della della capacità di resistere dei partigiani perché curati perché all'interno di un presidio sanitario lei era stata identificata come gli ufficiali in effetti Maria pian piano farà una strada che la porta a diventare ufficiale medico e le taglie lo testimoniano nel senso che lei ha su una testa una taglia come ce l'ha rizzato come ce la superti come ce la monedina come ce l'ha arca quindi questo è l'altro elemento di verità la scena ovviamente sia un po' western nel senso che c'è la sparatoria rapida in cui a un certo punto loro cercano effettivamente di fingere di non farsi notare che era la tattica più usata dai partigiani far finta di essere nessuno tanto non hai una divisa addosso documenti speri che non te li chiedano forse ce li hai falsi ma forse no e quindi cerchi di fare il vago questo è quello che loro provano a fare non gli va bene perché è una tattica che qualche volta funziona ma qualche volta no e Maria fa un errore che è quello sollecitata a dire a parlare a dare un nome maschile perché a un certo punto lei dice di essere vedova gli chiede un'occhietta a un marito lei risponde però Silvio Peron che è il nome di suo padre il primo uomo che a lei viene in mente purtroppo il cognome stava scritto sulla taglia e quindi questo fa sì che una scaramuccia degeneri poi nel tentativo di farli prigionieri e qui c'è appunto la sparatoria che andrà male per i fascisti e è bene per i nostri eroi però Laurenti appunto perderà le falangi dunque e allora a questo punto bisogna parlare un po' di Laurenti Laurenti Giapparizze un soldato georgiano che insieme ad altri si era unito a questa formazione partigiana perché aveva disertato armi e bagagli da una forzata da un forzato a ruolamento da parte dei tedeschi lui ha avuto lui e i suoi compagni hanno avuto una vicenda incredibile sono stati prima inquadrati e reggimentati nell'armata rossa poi dopo fatti prigionieri sono stati inquadrati e reggimentati nella Wehrmacht e alla fine quando si presenta l'occasione in un gruppo prendono e se ne vanno e si uniscono appunto ai partigiani abbiamo già detto che Laurenti uomo di poche parole ma di mente lucida e mano svelta ha ormai da tempo messo gli occhi su Maria in una maniera così delicata così profonda e così poco direi siamo ai nostri tempi così poco da macio ma con una questa grande ammirazione per questa per questa donna per quello che fa per come è per il suo essere pulita eccetera e qui scaturisce scaturisce l'amore che poi appunto li porterà a sposarsi subito dopo subito dopo la guerra parlaci un po' di Laurenti Beh Laurenti è una figura bellissima appunto io ho cercato di immaginare come possa essere nato questo sentimento in realtà ci sono stati diversi matrimoni che hanno seguito la fine delle ostilità quindi la fine della guerra e c'è un punto del libro dove faccio parlare alcune con Maria alcune persone della Battisti e si parla proprio dell'amore in tempo di guerra del fatto che essere in una situazione particolare ti porta a vedere degli aspetti di una persona dei suoi modi di pensare dei suoi modi di fare che forse nell'ordinario corteggiamento alla balera non avresti avuto l'opportunità di notare o di apprezzare ecco io mi sono immaginata questo quest'uomo che ne aveva viste tante che aveva disertato due rivise che se ne era scappato in montagna che parlava la lingua in modo molto approssimativo il quale Laurenti veniva da una famiglia molto semplice tra l'altro è stato sempre per tutta la sua vita molto attaccato la sua famiglia in Georgia benché la sua scelta di vita l'avesse in effetti portato poi a risiedere in Italia mi sono immaginato lui che aveva sempre considerato appunto le donne come delle creature da proteggere da insomma gli uomini si sporcano le mani per tenere le donne al riparo e improvvisamente si trova davanti invece questo esempio di donna che è così coerente con se stessa così forte così determinata e allo stesso tempo senza artifici che secondo me poi è il punto dove loro si sono incontrati sulla semplicità sulla semplicità e sulla e sulla coscienza pulita ecco due persone con una grande integrità di coscienza terreno che li ha uniti e li ha poi permesso di superare tante difficoltà io sono certa quasi certo è troppo però sono molto convinta che la Maria Peron prima della guerra difficilmente avrebbe mai anche solo pensato di intrecciare una relazione ma anche non sentimentale ma sentimentale con qualcuno di religione diversa di nazione di religione diversa cioè un grande ostacolo di di nazionalità diversa di abitudini cultura completamente diversi dai suoi ecco la guerra fa anche questo a parte l'amore trova sempre la sua strada questo è il grande principio della letteratura però questo non è un romanzo sentimentale ci sarebbero stati tanti modi per renderlo più sentimentale ma non era lo scopo di questa narrazione però non si poteva sorvolare su questo aspetto ossia sul fatto che le persone denudate dalla loro ordinarietà riescano a vedersi per come sono in un modo che il quotidiano non gli permetterebbe e questo crea delle grandi storie d'amore perché ci sono Maria Laurenti ma ricordiamoci che lì voglio dire ci sono stati Gloria e Arca altra coppia fantastica e con una storia romanzesca che meriterebbe appunto un romanzo sentimentale solo per loro ci sono state tante coppie che sono durate tantissimo perché perché innamorarsi e conoscersi in una situazione così particolare fa la differenza credo che Laurenti fosse proprio il tipo di persona adatta a stare con Maria Peroni cioè una persona sensibile gentile ma allo stesso tempo molto lucida molto piena di buonsenso senti qui sbuca un'altra figura femminile del tuo romanzo che se non ricordo male Maddalena la donna diciamo così compromessa con i fascisti ecco io direi che sarebbe bello che tu ci raccontassi anche un po' di questo personaggio e del confronto che ha che ha avuto e che ha nel libro con Maria perché sono più o meno l'una all'opposto dell'altro sì vabbè Maddalena è un personaggio realmente esistito non è non è un'invenzione letteraria ed era effettivamente sì la donna compromessa nel senso che quando i leoni della montagna vanno a catturare i fascisti in quell'episodio che poi sarà in qualche modo l'involontario innesco della rabbia che porterà più avanti il rastrellamento in quell'episodio insieme a tutti questi a questi fascisti ufficiali e non viene catturata Maddalena perché perché nel momento in cui i leoni della montagna sono arrivati a fare loro ride di prigionieri trovano la Maria sì la Maddalena chiusa in una stanza che sta facendo diciamo il suo antico mestiere con uno degli ufficiali e quindi trovandola lì in quella situazione la portano la portano sul montagna insieme ai prigionieri ecco di come fosse fatta Maddalena io non ho trovato una grande documentazione però l'episodio vero che racconto è quello che Maddalena sarà una delle poche che riuscirà da sola per sua iniziativa a scappare durante la marcia forzata e poi Maria la rivedrà in una locale in un'osteria la rivedrà e lì sarà un momento di grande tensione perché le due si riconoscono e questo lo scrive proprio Maria Peroni in una delle sue testimonianze lei in quel momento pensa lei è finita cioè adesso questa qua in mezzo ai fascisti mi punta il dito contro e dice è stata proprio lei l'infermiera dei partigiani e invece la Maddalena le sorride le fa un sorriso molto cattivo e fa finta di niente fa finta di non conoscerla e io mi sono chiesta ma dietro questo episodio che hai motivato tutto sommato che cosa c'è e quindi ho pensato a quello che poteva essere stato per Maddalena trovare un'altra donna trovare andare essere portata su come prigioniera e in mezzo a tutti questi uomini trovare un'altra donna una donna che ti cura una donna che in qualche modo bada a te perché perché comunque la situazione poteva per lei degenerare visto che comunque era considerata anche una spia Maddalena per il mestiere che faceva era anche soggetta a poter essere una spia e quindi sì mi piaceva anche questo questo confronto fra due persone lucide intelligenti che in qualche modo si trovano a imbastire un debito di gratitudine l'una con l'altra cioè Maria fa qualcosa per Maddalena quando Maddalena è prigioniera e Maddalena insospettabilmente le restituisce il favore quando si trovano poi a confrontarsi più avanti mi piaceva questo contrasto allora è ritornata la volta di Marta che ci leggerà adesso il terzo e ultimo brano che abbiamo previsto di presentarvi quindi Marta a te la parola grazie ci sarebbe tanto da commentare per i vostri interessantissimi interventi mi viene da dire rispetto appunto sempre con un taglio diciamo il mio taglio che è quello dell'attrice dell'interprete che un punto in comune che sento con Amalia è proprio questo del romanzare un episodio storico allora avendo avuto la possibilità di mettere in scena le partigiane ma comunque diverse episodi storici c'è la necessità comunicativa oltre che creativa di intervenire diciamo con il romanzando chiamiamolo così oppure aggiungendo dei dettagli sottraendone altri che sono magari più superflui e quindi tradendo in qualche modo la verità storica cioè lì il crinale è naturalmente sta alla nostra coscienza cioè ovviamente non travisando la realtà ma prendendo spunto dalla realtà per poter comunicare non so se si capisce quello che voglio dire ed essere più efficaci nella comunicazione quindi l'obiettivo ultimo è quello di portare avanti queste storie fare sì che queste storie diventino un patrimonio comune allora per farlo il mestiere del teatrante è quello naturalmente di condire aggiungere e poi c'è anche insomma il divertimento e il godimento dell'interpretazione no? E sicuramente facendo questo ci siamo ritrovati anche noi con degli episodi che potevano essere degli episodi d'amore appena accennati ma di cui abbiamo intuito una certa tenerezza e sicuramente e sicuramente c'è tutta questa tematica del momento così estremo per cui si estremizzano anche i sentimenti in quel momento come leggevamo prima nelle bellissime parole del romanzo ci sono dei momenti così densi di sentimenti fortissimi dove c'è il pericolo anche della morte per cui questi sentimenti si estremizzano e allora quando si crea un legame così particolare poi è anche facile che si conservi per tanto tempo data la forza dell'unione mi approccio all'ultimo capitolo che si chiama Resto qui e così vi saluto era il 5 maggio un'altra volta con la schiena appoggiata al basso muro di cinta della baita Fornà e le ginocchia raccolte fra le braccia Maria guardava il panorama della valle grande che sorgeva dal fumo dorato dell'alba come un arcipelago di isole magiche in un paesaggio onirico in alto il cielo era compatto di un azzurro smaltato pieno e denso che d'improvviso poco sotto le vette trascolorava in una luce morbida rosata e calda e riflessi voluttuosi di quella luce sulle pietre squadrate della baita sulle pareti di roccia su ogni filo d'erba accendevano le rotondità dei boschi e i sentieri di ghiaia spalancando l'anima e lo sguardo sulla fuga delle vette era una bellezza sovrumana incomprensibile che faceva che faceva dolere il cuore un anno quanto durava un anno quanto valeva un anno quanto aveva vissuto quanto tempo quante vite quante bende quanto sangue esisteva ancora da qualche parte la Maria di un anno prima che al niguarda faceva di tutto per aiutare i prigionieri e magari correva anche dei rischi ma non sapeva cosa volesse dire avere finalmente fame o freddo che non poteva fare conto di essere viva al minuto successivo Maria la Maria di una volta non conosceva la morte perché quella nell'etito ospedale è una morte gentile un andarsene ordinato pulito assistito un giro di waltzer con una dama bianca che ti tiene per mano la morte quella brutta con la falce insanguinata viene all'improvviso e ti stronca ti affloscia sul terreno come un burattino con i fili rotti ti straluna gli occhi ti riempie le mutande di escrementi togliendoti anche la dignità dell'eroismo la morte ti coglie su una fossa comune che ti sei dovuto scavare da solo perché paradosso avevi alla testa un fucile puntato e temevi di morire ti coglie nel fiume gelido dove ti sei buttato per sfuggire una pallottola pensando che te la caverai in fondo hai solo una gamba rotta ti coglie in un buco dove ti hanno nascosto promettendo di tornare e invece quando tiri l'ultimo respiro sei solo come un cane ti coglie con i denti verdi perché sono sei giorni che mangi solo erba in una notte piena di stelle cadenti che la loro fredda bellezza l'ultima cosa che vedi mentre ti si chiudono gli occhi ti coglie mentre tieni la posizione e ti sparano addosso in dieci e sai che stai morendo e pensi che va bene così anche se ai tuoi resterà una medaglia fredda in una casa vuota ti coglie nel volo d'angelo giù da un dirupo e nella stupita sofferenza dello schianto ti coglie con stupore perché quel cecchino lì con il suo brutale occhio metallico un attimo fa non c'era ti coglie e basta uno di meno è la guerra dicono poi quelli che restano a piangerti come fosse una ragione sensata un buon motivo è la guerra grazie Marta allora Amalia quando si legge un libro soprattutto se si legge un bel libro come quello che hai scritto tu se ne esce più arricchiti dentro si porta e si serva un qualcosa però tu che invece questo libro l'hai scritto occupandoti della vicenda di Maria Peron che cosa hai riportato a casa diciamo così che cosa hai riportato a casa è una vicenda che non dimenticherò mai è una ho scoperto un piccolo mondo la resistenza in Italia è stato un fenomeno vasto e molto 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 peculiare in ogni posto la Val Grande è uno squarcio in cui però sono entrata in profondità e quindi mi sembra di esserci stata mi sembra di aver partecipato a volte a volte io stessa perdo il confine tra come diceva Marta quello che ho romanzato e quello che è successo prima mi avete fatto le domande io ho risposto che ho dovuto fare mente locale oddio cos'era vero ah sì era vero questo invece quello l'ho messo io si perde proprio questo confine mi porto mi porto a casa questo modello esemplare di donna che capisce impara ad essere straordinaria non si monta la testa e fa sempre quello che le dice la sua coscienza ecco io credo che basterebbe questo se ognuno di noi facesse quello che gli dice la sua coscienza sempre sarebbe un gran mondo dove stare penso sia la cosa che mi porto a casa e poi mi porto a casa una gran voglia di scrivere altro di scrivere altro su alcuni personaggi che ho affrontato di sfuggita di scrivere altro sulla resistenza di scoprire altre storie detto che è il mio grande hobby il mio grande gioco scrivere quindi praticamente sono piena di storie che vorrei raccontare però sì di questa vicenda mi porto dietro degli amici cioè i personaggi come degli amici benissimo e mi sembra che questo entusiasmo sia stato non solo ben impiegato per scrivere questo libro ma che sarà par di capire fruttuoso anche per il futuro e noi aspettiamo che esca il tuo prossimo libro e quando sarà dedicato in qualche modo alla resistenza ci troverai ancora qui tutti intorno per parlarne tutti insieme bene a questo punto il tempo che ci eravamo prefissati di trascorrere insieme è terminato io vorrei ringraziare chiaramente ancora una volta Amalia Frontali per aver scritto questo bellissimo libro per averlo condiviso e raccontato questo appuntamento con noi ringrazio Marta Marangon che ha letto i pezzi del libro facendoli rivivere con la sua bellissima voce ringrazio Riccardo De Gregorio che ci ha raccontato della ricerca che stiamo facendo come ampi martiri di Guardesi qui in zona di Guarda a Milano e vorrei concludere con un pensiero il pensiero che queste persone che hanno avuto queste vite alcune terminate tragicamente altre no hanno lasciato comunque un qualcosa di grande un qualcosa di grande una valle grande lo vogliamo dire e con questo ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ancora una volta ringrazio tutti coloro che ci ascoltano che ci ascolteranno e buona resistenza a tutti ringrazio tutti ringrazio tutti